Per quanto concerne la legge di stabilità è una legge che sicuramente va a favore dei cittadini perché prevede quella che è una non richiesta ai cittadini di tributi locali. Per quanto concerne il comune questa legge di stabilità forse imbriglia un po' troppo quelli che sono i comuni perché con questa legge di stabilità i comuni perdono la loro autonomia decisionale da un punto di vista economico-finanziario. L'auspicio è naturalmente che quello che si prevedeva di incassare attraverso i tributi locali poi arrivino da trasferimenti dello Stato centrale perché altrimenti saremmo nella condizione di non poter adempiere a quelli che sono i nostri obblighi come amministratori locali nei confronti della cittadinanza ricordando che l'ente locale comunque è l'ente statale chiamato a erogare i servizi essenziali alla cittadinanza. Grazie a tutti.